Ok, andremo ad avversario e la dimostriamo direttamente dalla dossa. Mi pare prima di portare a formare, da giù, quindi prezzi, ragioni, come la sentiamo parte, ora da un po' con la mano, quindi, scherzi, che stai spettando. Ok, e poi stai pure a scuola, ok, questo, amici, come la spesa, è lì, come la spesa, noi invece facciamo quello da tappo quindi cosa succede? l'azione è finita a questo che è finito e ora lo faccio a fare i cammini abbiamo partito da questa situazione però non passiamo pari su gestione allora vedete che qua con un maschere come questo ok? e da qua vado a lavorare a passare il suono a sbilanci con uno stanzo per mettere il nostro braccio contemporaneamente a questo spostamento sentisco la gamba e faccio la sopra oh oh giù qua da qua al vuoto del fatto è meno pulire eh? ma facendo 20 vado da uno quando la faccio la testa e venti da sinistra anche una e ci dobbiamo sbrigare eh? perché dobbiamo fare almeno vi riportare un spostamento da tre che possa succedere ok? quindi quando la tre al centro la tappi avversa mezza partite giusto quindi in grosso ok? e fai una e scuola entro e poi che fai fai subito oh via tazza subito prendi poi vieni se si vede che stanno facendo le dose come si posso? andrea se non vedi braccio e leo andate questo che sei meglio questo qua lo dobbiamo dare come automattivo bene 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 ok bene ok ora passare giusto in campo entra dentro il piede e scendi il suono del campo via dritto sei troppo di lato direi schiena a capisci e Grazie a tutti.